Importantissimo successo per l'Olimpica Avellino di Omodeo che supera tra le mura amiche Monte Rotondo per 3-0 Una vittoria che permette ai Biancoverdi di volare a quota 8 in classifica Un bottino importante per una squadra che deve salvarsi e deve conservare la catetteria Primo set iniziato leggermente in salita per l'Olimpica Poi sono saliti in cattedra Guancia e Cefarello che hanno preso per mano la squadra E messo in seria difficoltà la difesa del Monte Rotondo La differenza tecnica è stata evidente nei successivi parziali con l'Olimpica Che ha vinto e convinto contro un avversario alla portata per classifica e roster 25-19, 25-20, 27-25 i tre parziali Adesso i Biancoverdi torneranno subito ad allenarsi per riuscire a preparare nel migliore dei modi La difficile partita contro Rione Terra Volley La compagine partenopea è di sicuro tra le favorite alla vittoria del campionato Ma l'Olimpica dal canto suo in questa stagione ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque E di avere tutte le carte in regola per impensierire anche le big del torneo